125 libre, flyweight division femminile, ancora non c'è una campionessa del mondo in questa divisione, chissà che un domani non sia proprio Mara Borella ad avere questa cintura. Prima però il pericolosissimo match di debutto in USC contro Kalinda Faria, subito a chiudere la distanza. Mara, benissimo così, subito a portare la Faria a terra, nella mezza guardia. Buonissimo avvio per la nostra connazionale. Per tutti gli appassionati di arti marziali miste questo è davvero un momento molto emozionante. Un'italiana in USC fino a qualche anno fa sarebbe stata pura fantascienza anche soltanto pensarlo e invece forse anche prima del previsto è diventato realtà. qui nella mezza guardia della Faria, Borella non perde assolutamente tempo, mette il braccio sinistro, scusate destro, dietro la testa della Faria. Controlla molto bene, non sta mettendo colpi, non vuole sprecare nulla. Buon passaggio in montata anche un po' agevolata da un errore tecnico della sua avversaria. Quindi full mount per Mara che mette anche colpi, si mantiene attiva così da non far ripartire il match in posizione retta. La mano è molto chiusa sulla sua avversaria, non spreca nulla. Consideriamo che appunto con un debutto con poco preavviso, non avendo avuto il tempo per preparare il match specifico per la sua avversaria, in pochissimi giorni sicuramente Mara si dovrà affidare a molti automatismi dei suoi allenamenti e non deve sprecare assolutamente nulla. Per ora si sta limitando a controllare una full mount, si sta portando comunque a casa il round e questo per il momento è abbastanza. Qui ora rischia forse qualcosina in più Mara per migliorare la sua posizione. Attenzione va a prendere la schiena dell'avversaria, ora nella back mount la controlla. Tiene i ganci al corpo, bene così, molto bene per Mara Borella, forse un po' alta per andare a mettere una rear maker choke come postura un po' alta sul busto con le gambe dell'avversaria, ma comunque ci sta provando. Attenzione perché è dotata di grande forza, potrebbe essere anche una sorta di crank. Insiste Mara Borella, attenzione, pericolo per Faria, potrebbe essere un grande momento per noi. Potrebbe essere, ce l'ha resa, ce l'ha resa! Mara Borella! Debutto col potto, sventolo al tricolore. Mara Borella porta a casa la vittoria nell'ottagono dell'Ultimate Fighting Championship. Chi se lo sarebbe mai aspettato accetta il match con una settimana di preavviso, entra e vince. Guerriera italiana, Mara Borella.